Rumori, fumi, polveri, con questo devono convivere i cittadini che risiedono nelle vicinanze della Valli Zaban, azienda che produce bitume e che si trova in via Fiorentina ad Arezzo, in pieno centro abitato. Dopo le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano cattivi odori, c'è un comunicato ufficiale di Arpat. Abbiamo effettuato numerosi accertamenti, leggiamo, anche in collaborazione con altri organi di polizia. Gli esiti sono stati trasmessi alla Regione Toscana, che ha predisposto un atto di diffida nei confronti dell'azienda, imponendole di ottemperare alle prescrizioni dell'autorizzazione unica ambientale di cui l'azienda è in possesso e a porre in essere nella gestione dello stabilimento tutte le necessarie azioni per contenere gli impatti legati alle emissioni. Nel marzo del 2018 è la Conferenza dei Servizi a proporre di adottare quanto prima le azioni di miglioramento per limitare il disagio percepito dalla popolazione. Ed è di nuovo la Regione Toscana, stavolta nel settembre del 2018, ad approvare il progetto presentato dall'azienda per migliorare la situazione attuale. Interventi, che afferma la Valli Zabban, sono già stati ultimati prima della data di scadenza che era stata fissata nel 15 di maggio. Sarà Arpat adesso a verificare se i lavori sono stati realizzati in ontemperanza alle disposizioni regionali e soprattutto la loro efficacia in merito alla riduzione dei disagi subiti dalla popolazione. Grazie.